Buongiorno, noi siamo di TBS, televisione giapponese, e vogliamo fare una domanda. La nostra domanda è un po' legato di seconda domanda. Noi vogliamo sapere la partita domani come collocarlo per voi, perché l'ultima volta avete avuto un risultato negativo, però avete già deciso di sperare questo torneo per rispondere. Amico, capito, Gigi. Un po' questa è una domanda per l'allenatore. Com'è la partita di domani? Domani è una partita come se non ci siamo mai qualificati. È una partita dura e importante. Allora anche domani sarebbe importante per voi come al solito? Assolutamente, ci mancherebbe. Ok. La seconda la faccio al tifoso laziale. Quanto ti fa piacere vedere la Lazio nei quartieri alti della classifica e da tifoso laziale la Roma invece un po' più basso? No, no, io adesso penso solamente alla mia squadra. Poi se vogliamo parlare della Lazio andiamo in un bar e ne parliamo. Però adesso siamo qua e ne parliamo di l'Inter. Anche perché sa che se parla della Lazio non giocherebbe più. Anche perché sa che se parla della Lazio non giocherebbe più.